Stiamo assistendo alla mungitura delle bufale, guardate come sono meravigliose, educate, guardate, 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 guardate. Vedete, bene qua, vediamo, e il latte arriva lì, guardate, direttamente la retricità rotolata, guardate, 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 vengono prima pulite le mambelle, eh, guardate qua, vedete la mia, in realtà, dove siamo qui? Siamo a Stigliano, località Cappinello, azienda di Golisciano di Giglio, a Sificio La Materana, meravigliose, eh, questa è la vera dimettura delle bufale,